Volata finale per la nuova autorizzazione integrata ambientale all'Ilva di Taranto. Si riunirà per l'ultima volta il gruppo tecnico che sta lavorando alla predisposizione dell'AIA. La riunione in vista della conferenza dei servizi al Ministero dell'Ambiente che vedrà l'audizione dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste che hanno chiesto di presentare le proprie osservazioni e a seguire l'intervento degli enti locali comuni di Taranto e Statte, provincia, regione e Ilva. Dopodiché il procedimento dovrebbe essere chiuso. Il testo AIA licenziato dal gruppo istruttore venerdì scorso eventualmente integrato con ulteriori richieste e il tutto inviato per la firma al Ministro Corrado Clini. L'AIA all'Ilva sarà operativa nel momento in cui il decreto verrà ufficializzato e pubblicato. Alla vigilia della conferenza dei servizi il fronte che si va delineando vedrebbe la provincia di Taranto, il Comune e la Regione propense a dire sì all'AIA all'Ilva a condizione che le richieste presentate siano recepite nel provvedimento finale. In particolare il Comune ha posto 13 condizioni. La Regione ha chiesto fra l'altro che l'Ilva comprenda anche la valutazione del danno sanitario provocato dall'inquinamento, aspetto questo introdotto da una legge regionale dello scorso luglio, mentre la provincia ha posto il problema di innalzare l'importo delle fidie e gli usioni che l'Ilva è tenuta ad assicurare in caso di dismissione degli impianti e anche la necessità di fissare da subito i tempi del provvedimento che dovrà disciplinare rifiuti, discariche e acque non comprese nell'AIA in fase di rilascio. Non ha ancora reso note le sue osservazioni invece l'Ilva, che dovrebbe comunque parlare al tavolo ministeriale. Sul fronte ambientalista, eccetto Lega Ambiente, che non dice no all'AIA ma esprime comunque rilievi critici, tutte le altre associazioni bocciano il testo. Dal Comitato di Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti al Comitato Donne per Taranto, da Taranto Futura a Pslink, una serie di no sono arrivati al nuovo testo dell'AIA. Pslink in particolare annuncia un ricorso alla Procura e chiede di far slittare di 90 giorni il rilascio dell'AIA. Afferma anche che questa è la posizione del Comune di State, a pochissimi chilometri dal Siderurgico, mentre Taranto Futura dichiara che ricorrerà al Tar del Lazio.